eccellente ho finito è ora di testare la mia macchina ecco il primo soggetto del test i calcoli sono completi cominciamo pronti via andiamo fammi uscire di qui subito non me l'aspettavo aggiungiamo un po di età cosa otteniamo ciao è un po stretto qui ehi apri o semplicemente meraviglioso proviamo ad aggiungere un po più di potenza ehi smettila non funziona cosa c'è che non va nel cablaggio ehi ma che diavolo dove è andata eccomi oh ferma andiamo non fermarti puoi farcela vai oppi ho fiducia in te non ce la faccio più debole ho un problema ho creato delight ma le cose non sono andate come previsto e adesso sto distruggendo tutto aiutatemi per favore oh no è terribile silenzio cosa dovremmo fare capitelo da sole ci abbandonate ho paura aspetta qui adesso te ne vai anche tu torna qui ho trovato aiuto guarda sono libera come ci aiuterà riportiamo indietro tutti ehi perché non funziona di nuovo sono solo normali giocattoli o non avremmo dovuto farlo forse almeno qualcuno si sveglierà a chi aspettate voglio solo giocare non fermatevi cos'è questo posto interessante è un laboratorio aspetta quanta polvere wow cos'è sembra che venga da laggiù oh è così spaventoso ho bisogno di riprendere fiato cos'è sono riuscita ad accendere il computer super basta volevo solo giocare non è il momento giusto siamo in pericolo oh ancora guarda i sensori sono fuori scala può essere più silenzioso sto cercando di mangiare cosa sta succedendo oh chi è aspetta forse può aiutarci che strano ehi svegliati sto parlando con te non vorrei essere al suo posto svegliati sono stufa che incubo è tutto così fastidioso aspetta starà bene e questo wow è un piano vediamo cosa dice puoi andare più veloce non capisco ovviamente capovolgilo capito cominciamo con questo no questo stai sbagliando smettila di disturbarmi sei così fastidiosa c'è qualcosa che non va forse una ciambella risolverà il problema oh ho un buon profumo posso averne un pezzo ah prendi potete smetterla di disturbarmi al lavoro tutto deve risplendere sbrigatevi ragazze vediamo fammi una ciambella wow ha funzionato deliziosa ehi smettila di distrarti non vedi cosa sta succedendo stai sbagliando stai sbagliando ciambella cosa stai facendo ci occuperemo di lei niente più fumo meschina guardate cosa ho trovato toc dei smettila disconnettili oh cielo ti aiuto vediamo quanto resisteranno senza di me un mucchio di fannullone non possono fare niente senza di me non toccare nient'altro avreste dovuto vedervi non è stata colpa mia tutti mi hanno lasciata ma è ok me la caverò in qualche modo devo solo saldare questi cavi e il gioco è fatto oh sembra che funzioni oh lasciami provare grande perché non funziona forse troverò qualcosa di utile qui vediamo eccezionale venite qui smettila mangerai quando avremo finito che noia ora siete miei buono non ci riusciranno puoi tornare evviva nessuno mi disturberà adesso che cos'è oh che strano odore è ora di fare una pausa meravigliosa ora torniamo al lavoro dove sono andate trovate ho dormito così bene cos'è cosa in faccia guardati qualcuno ha disegnato sulle nostre facce chi potrebbe averlo fatto cosa sta succedendo qui sicuramente tuo tu aspetta aghi ha il pennarello sei nei guai adesso aspettate non sono stato io non ho fatto niente ti piace impara la lezione perdente è deciso cosa fa interessante secondo compito completato adoro la chimica cos'è forse l'ho immaginato sarà meglio rimetterlo a posto terzo compito completato sì ops ancora cosa funziona per favore catnap oh scusate non volevo ho urgente bisogno di svegliarle alzati forza dog day sono stanca di svegliarmi ragazze per favore quante volte dovrò farlo adesso sicuramente non cadrete ben strette fatto e adesso non capisco oh no hoppy torna qui restituiscimi la matita sto scrivendo allora stai bene che strano continuiamo ora salviamo fatto via oh cocco jumbo e rimandatemi indietro immediatamente scusa fatto oh sì poi faremo una festa sembra che abbiamo risolto anche questo finalmente pensi pensi che funzionerà avviamo la macchina provaci oh che strano forse è bloccata maledizione ci penso io oh non mi sento bene ragazzi potete commentare qui sotto cosa dobbiamo fare per far funzionare la capsula e cos'è grazie mille a tutti cosa c'è che non va apri l'angolo del piano abbiamo bisogno di una mela oh no questo no cos'è questa cosa deliziosa no cosa stai facendo non mangiarla oh no cosa c'è ho fame non preoccuparti sistemerò tutto mangia la tesora è una mela magica fatti da parte via che strana mela ma devo lanciarla dai forza avvio per favore mi sono persa qualcosa perché non è ancora partita oh no che cos'è attenzione presto nascondiamo ci siamo in pericolo che paura ops ops dog day al riparo aspettate io non lasciatemi non guardarmi così non sono qui spero che eviteremo il problema oh no chi ha osato disturbarmi oh no non avvicinarti a me conosco il kung fu queste sono le tue ultime parole taglia tutto qui bene chi è la prossima non io risposta sbagliata prendi questo e questo non posso guardare ferma quindi non sei sola significa che la mia collezione crescerà perché sei qui dobbiamo scappare ma dove ho una ciambella prova a prenderla facile crafty oh no betnap l'abbiamo persa povera crafty corn è tutta colpa di delight chi l'ha detto dove sei forza mettila a dormire non lo farò per favore allora eccovi qui andiamo sei la nostra ultima speranza no giochiamo a nerd ball mi ha colpita dritta in faccia calmati come faccio a calmarmi affrontala dai catnap per favore ricomponiti ah va bene lo farò io cos'è questo odore che schifo oh smettila dog day poverina ne ho avuto abbastanza non funzionerà con me è finita per te delight un piccolo souvenir oh cosa mi sta succedendo ehi fatemi uscire perdente ti abbiamo battuta the light basta fatemi uscire oppi è ora di finirla come vuoi facciamolo avvio fatto è tutto sei finita mettetela oh è troppo luminoso ciao ragazze piacere di conoscervi yey ce l'abbiamo fatta oppi ce l'abbiamo fatta the light è di nuovo gentile grazie volete dei dolci oh no non abbiate paura prendetene un po va bene proviamo ne voglio un po anch'io oh anch'io voglio un dolcetto oh sembra che sia ora di lezione oh no ci siamo completamente dimenticate di matematica aghi la nostra classe è dall'altra parte sbrighiamoci chi risponderà guarda questi perdenti ehi smettila aghi ignorali ecco il vostro compito bene cosa abbiamo qui sarà un gioco da ragazzi sì facciamolo non capisco niente questo test è in cinese o cosa ehi aghi si è ricordata di me mi aiuterai con il test per favore certo dammi un minuto ecco qua eccellente mai più cosa sei uno scalzone non mi inganni più consegnate i vostri fogli ben fatto o anche tu hai fatto un attimo lavoro non male ma potevi fare meglio sei l'ultima quindi cosa c'è qualcosa che non va non ho mai visto un lavoro del genere effe oh che cattiva prendi questo dog day il fallimento le si addice bene vi mostrerò chi è il capo qui chi ride ora gattaccia trasandata perdente ehi basta decido io sorridi sei nel mio tic toc ehi lasciala stare fai bene rosso sei il mio eroe ti aiuto sei ferita grazie oh cos'è quell'odore oh oh no cosa ho fatto beh l'hai davvero steso perdente oh sono così imbarazzata oh vuoi una gomma oh miss delight corriamo ehi perché stai piangendo nessuno mi ama beh è facile da risolvere davvero voglio farlo eccellente bene la formazione si svolgerà qui accomodati non riesco a guardarmi questi brufoli mi stanno facendo impazzire schiacciare i brufoli è dannoso penserò a tutto io sei sicura di poterlo fare non avere dubbi questi non ti serviranno non vedo niente e ora cominciamo con la pulizia del viso adesso facciamo un po di ordine e gli ultimi ritocchi hai finito non avere fretta abbiamo appena iniziato assolutamente no braiati guarda il pesce buonissimo così va molto meglio alla massima potenza penso di aver esagerato un po esci wow fantastico grazie miss delight fermati non è così che si diventa reginetta della scuola scegli va bene adoro il rosso proviamolo mei non osare masticarli ci vedi meglio adesso sì grazie sono molto contenta bene chi vuole venire alla lavagna prendi questo perché se la prende sempre con me è semplice che riesce a trovare la x in questa equazione che noia non riesco a sentirvi guarda cosa ho trovato ciao a tutti fatemi fare un piccolo esperimento incubo abbiamo un supplente oggi queste formule non funzionano guardate no non va bene non distrarti ci sono altre opzioni iniziamo la nostra indimenticabile performance dobbiamo cambiarlo urgentemente dove sono cosa sono questi numeri cosa devo fare lei è più divertente chi altro c'è qui dove sono odio la matematica sarà meglio cancellare ti adoro la scuola non è cool lo avete capito tutti è davvero fantastica non credo o proverò a riportare indietro miss delai restituiscilo oh chi è stato confessate ora oppure sarà peggio per voi il mio trofeo ti amo l'orgoglio della scuola ops ehi attenta dove vai e se avessi colpito il trofeo può non essere così timida ancora tu ciao oh beh ciao e adesso stai andando alla grande quali sono i tuoi piani per la serata mia è strana divertente sei così forte vieni da me che odore allontanati da me oh no dammelo oh sei tu scusa stavo solo scherzando davvero allora anch'io il mio telefono non ti perdonerò mai miss delai grazie non abbiamo finito è ora di lavare i denti oh beh uno spazzolino non sarà abbastanza è imbarazzante allora ti cambieremo i denti dai e cosa fai quella è mia non me l'aspettavo voglio un sorriso come il suo bene possiamo farlo ti piace moltissimo ma non è reale ok penserò a qualcosa cosa mi darà la fata lo scoprirò domattina oh ottimo presto la mia collana sarà pronta non così in fretta serve di più a me sorriso luminoso garantito apri la bocca eccellente quotiamo un po per mettere tutto a posto voilà ha funzionato è ora delle sopracciglia ah che male la bellezza è dolore mia o però sai una cosa sto benissimo qual è il prossimo passo oh il trucco chiudi gli occhi quando li aprirai non ti riconoscerai wow super ora passiamo alle ciglia provale eccellente e un altro paio wow ora dobbiamo fare le labbra vediamo sei semplicemente adorabile grazie miss delai facciamo l'acconciatura e pettiniamo brava amicia stai ferma non sapevo che stavi perdendo il pelo basta fa male ho forse esagerato un po sei semplicemente meravigliosa miss delai e che dire di quelle mani quella la chiami manicure sì è ora di mostrarti cos'è una vera manicure inizio ad avere dei dubbi ah e che ne dici della limatura non ce n'è bisogno ok allora prendi questo oh un tiragraffi lo adoro guarda questi artigli ora passiamo allo smalto semplicemente adorabile e voi cosa ne pensate belle vero alzati quel vestito non va bene cosa indossare allora sei fortunata sono la miglior designer troveremo qualcosa per te in pochissimo tempo devo essere qui da qualche parte no mi spaventa che ne dici di questo provalo sono agli adesso cosa mi sta succedendo wow questo è troppo l'ho trovato non copiarmi wow sei semplicemente favolosa adesso vincerò sicuramente vero verso la vittoria wow quanti spettatori sembra che io sia al centro dell'attenzione devo andare cosa ci fai qui cosa ci fai tu qui non puoi battermi non dimenticare di passarmi la corona basta e quest'anno la corona va stop catnap è la nuova reginetta della scuola finalmente wow puoi firmarlo per favore facciamo un selfie esco con la reginetta della scuola è impossibile aspettavo questo momento da tanto tempo grazie è ora di toglierne quella corona oh no k unisciti a noi davvero che gentile questo è perché dog day non capisco wow me la stai dando davvero ti adoriamo dog day sei la migliore allora sei proprio cattiva è tutto non sei necessaria qui addio come osa oh no cos'è questo fumo cosa faccio adesso sta arrivando qualcuno evviva sarò la reginetta quest'anno e perché non c'è nessuno che strano un giocattolo beh almeno qualcosa di buono sono così felice che gattino carino ma è ora di dormire non vedo l'ora che arrivi domani sogni d'oro oh che strano perché non risponde potrebbe essere successo qualcosa mia amata mary dove sei è scomparsa devo trovarla urgentemente buona giornata e non inizia con il caffè dove sono basta avviare la macchina ed è tutto pronto inseriamo i dati di trasformazione tutto al massimo ecco l'amuleto sono un genio presto diventerai cat nap chi è adesso non ora non lascerò che il mio esperimento venga rovinato ehi c'è qualcuno per favore rispondete povera mary ops scusa professore di cos'hai bisogno daemon la mia ragazza è scomparsa quindi non sospetta nulla dove l'hai vista l'ultima volta ieri alla fiera eravamo al poligono di tiro e ci divertivamo e poi ehi cosa hanno chiuso definitivamente non la troveremo più ottimo sono quasi libera manca solo l'altra mano che cos'era non spaventarmi così sono libera fatto ed ecco la via d'uscita è un profumino delizioso devo assaggiarlo oh no sembra che io debba andare al laboratorio perché è rimasta ferma mi ha anche rubato il panino aiuto via di qui oh scusa signor vagabondo vuoi litigare ti butterò a terra con una mano legata dietro la schiena per me va bene meglio sbrigarsi ridammelo l'ho visto prima io bene 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 lascia andare il panino va bene se lo dici tu puoi stare più attento posso averne un pezzo impossibile mi occuperò prima di lei cosa per favore troppo tardi mi sento come se stessi impazzendo cosa mi sta succedendo che strane sensazioni wow oh sì che strano mi sento fantastica è terribile non ho fatto alcun progresso nelle mie indagini dov'è la mia mary spero che venga ritrovata presto stai piangendo ehi demon cos'è successo mary è scomparsa mi aiuterete a trovarla certo tu copri quest'area e io andrò alla mensa ci stavo andando anch'io chi è mary la mia povera fidanzata e dov'è chi è deve essere stata la mia immaginazione oh cart nap sei tornata ottima preda lasciatemi andare siediti non fatelo sta tranquilla adesso ecco un giocattolo per mantenerti calma per favore lasciatemi andare aspetta presto non vorrei più andartene cosa hai in mente no fermati ciao hai visto mary no stavo sognando forse hai visto mary no sono occupato oh beh signorina lili per favore aiutaci a trovare mary certo ma sembra che il mio turno sia finito buona fortuna con la ricerca devo andare arrivederci e ancora una volta non abbiamo trovato nulla cos'è ehi devo tirare perché non siete ai vostri posti sembra che siamo nei guai allora cos'è tutto questo casino vi siete rilassati troppo la lezione di oggi è lo sparo chi vuole venire per primo signorina lili ti stanno chiamando tutto tranne questo che tu mi piaci scegliete la vostra arma chi vuole provare tu oh no non sono un grande tiratore sembra che sia meglio scappare oh non volevo colpito in pieno ops mi è scivolato perfetto grazie in realtà stiamo cercando la mia ragazza scommetto che è stato lui a prenderla no è tutta colpa di kissy missy zitta sono io l'insegnante qualcuno può aiutarci oh siamo senza speranze per favore aiuto abbiamo cercato ovunque siete la nostra ultima speranza oh questa è buona cosa dirai dopo che kissy e aghi l'hanno rapita te lo immagini non ci aiuterete per favore vi supplichiamo aghi sta già venendo a prenderti è ora di pranzo il mio momento preferito buon appetito collega un altro piccolo cieco come faremo a trovarla nessun aiuto dalla polizia e ragazzi questa cosa vi aiuterà sicuramente girate troverete la vostra amica cosa non è successo niente premete il pulsante cosa mi sta succedendo ha fatto bene 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 sono un mostro di peluche consegnami il cibo ora ti do una lezione hai superato te stesso ti mangio aiuto mai sottovalutare aghi penso che sia ora di andare ehi dove sono hai sentito scappiamo cattivi spero che non ci trovi avete deciso di giocare a nascondino con me non guardarmi così sei stata tu beccati troviamo qualcosa di più interessante oh questo è perfetto diti addio alla vita cosa sta succedendo non posso nemmeno riposarmi in pace vado a lamentarmi maledizione non sono loro o che puzza dove potrebbero essere facciamoli saltare in aria la dinamite dovrebbe fare al caso nostro non toccherò alla luna nessuno sembra che l'abbiamo scampata vi troverò allora siete qui cosa questo no ok va bene allora sembra che la situazione sia cambiata ora prendi questo ti piace oh questa tornerà utile presa ops muoviti angi oh ho paura qui tutta sola è finita non avete nessun posto dove scappare è ora di rilasciare il fumo ed ecco la mia preda semplicemente deliziosa super mi piace ciao professore picchi picchi sei in missione prendi questo ragazzo e portamelo sì capo sembra che mi sia perso cosa fare una mela da dove arriva oh no non questo credo che adesso il capo sarà contento prendiamolo l'ho preso io non inventare le cose la rete è mia mi faranno a pezzi va bene risolviamo la questione da adulte trum trum food oh a questo gioco si può giocare in tre aspettate giocherò con voi trum trum food oh no non questo ci ha ingannato perdenti l'ho sottovalutato è ora di potenziarsi questo demon me la pagherà penso che questo sarà sufficiente ancora un po di colorante ed è pronto è ora di riportarti in vita piena potenza ora sicuramente non mi sfuggirai vediamo com'è andata fatto oh sì il mio soldato universale un piccolo massaggio prima dell'azione dov'è il tuo sorriso ragazzino ed ecco gli occhi prendi vita ho una missione per te portamelo capito ti incastrerò da dove vieni oh mio dio prendi questo come mai non funziona proviamo con questo il gambetto di re geniale ah scacco ed ecco il mio cavallo scuro questo è contro le regole cosa mi hai fatto aiuto non avresti dovuto imbrogliare questo è impossibile cosa fare oh la mia più grande creazione penso che te la caverai con lui nessun problema professore uscirò mai di qui forse pikachu può aiutarmi beh ciao cut nap e pensavi che avrebbe funzionato wow basta giocare sono un ottimo ricevitore lasciami in pace no basta verrai con me prendi questo non in faccia ferma ehi mary sei tu sono cut nap il professore sarà contento perché non ti arrendi non così in fretta ricordi i vecchi tempi casca cosa cosa mi hai fatto mi hai già dimenticato è ora di liberare il fumo splendido grazie prof ehi non tremare cosa demon come potrei dimenticarti quelli sono stati i momenti più felici della mia vita stavamo così bene insieme questo è meglio dimenticarlo tesoro ti salverò ma prima professore fermo impossibile questa era la mia paura ora nessuno può fermarmi prenditi una pausa cut nap lasciatemi andare di addio adesso demon diventerà il mio giocattolo no si abbracci diventiamo amici non ho fatto in tempo amici per sempre tutto è andato meglio del previsto la mia squadra è al completo con il loro aiuto potrà conquistare il mondo i loro amuleti possiedono un potere distruttivo nessuno sospetterà di creature così carine questo è un piano geniale il mondo intero si inchinerà davanti al mio potere ragazzi non possiamo permettere che ci accada scappiamo tutti ricorderanno il nome del professore maledizione pensate che non vi troverò avvio del piano b ho bisogno di nuovi guerrieri hai capito tutto sì maestro allora vai ed eccomi qua faresti meglio scappare di qui beh ciao è passato aghi cos'è questo vediamo probabilmente è stato lui a farla cadere non so da dove venga spero che non se ne accorga sono solo cuscini è corso da quella parte grazie per ora puoi tenerla ehi grazie per avermi coperto è davvero arrabbiata dobbiamo rimandarla nel gioco e velocemente per prima cosa dobbiamo trovare la bambola poppy il treno e il castello colorato dammi la cassetta vediamo cosa c'è su è la pubblicità del bar di poppy ciao a tutti poppy vi invita a provare tutti i tipi di dolci affrettatevi e venite a trovarci ora è chiaro dove trovare poppy andiamo direttamente al bar la troveremo lì e il gioco può caricarsi mentre siamo via i ragazzi sono già al bar ed ecco il loro obiettivo solo un minuto non abbiate fretta siete a metà strada ma prima dovete superare una sfida alimentare ora aghi mangerà il poveretto no no ti offro di giocare alla ruota della fortuna rosy dovrà mangiare quello che uscirà sulla ruota wow un kinder pinguì wow è enorme il tempo scorre vai rosy puoi farcela che fantastico gruppo di supporto manca poco continua così rose stai andando alla grande hai quasi finito il kinder pinguì perfetto ce l'hai fatta prendi la bambola e la seconda videocassetta ottimo lavoro oh ciao benvenuta nella nostra caffetteria ti offro di fare una sfida alimentare è molto eccitante la regola principale di mammi è l'assenza di regole rosy e addy sono pronti per continuare ecco cosa sta succedendo l'insegnante pazzo ha fatto una ferrovia aha eccolo ehi io ero tipo cosa vuoi ehi cerchiamo il treno andiamo bene dovrebbe essere qui da qualche parte eccolo dobbiamo prenderlo state attenti ragazzi e cosa state facendo vi serve forse il mio trenino l'insegnante ha sempre ragione per ottenerlo dovrete superare un test risolvete tutto e il treno sarà vostro forza credo in voi è un test molto difficile ma gli amici non hanno intenzione di arrendersi sembra che aghi voglia copiare da rosy e no non è giusto ciascuno per sé rosy ha risolto tutto da sola e anche aghi hai fatto tutto si controllalo grande il punteggio più alto e il mostro di peluche che attimi di tensione wow anche lui ha preso un bel voto ma con il meno avete superato il test e ora il treno è vostro avete fatto un ottimo lavoro ho una videocassetta per voi ah corri è lei buona fortuna ragazzi oh mammy long legs è già qui ciao non avere fretta per poter proseguire devi prima superare un test è facile che colpo di scena un insegnante bocciato è inaccettabile nuova cassetta nuove informazioni bene vediamo ahah ecco cosa sta succedendo il professore ha nascosto la serratura codice all'interno del libro che intelligenza ho capito aspettila di giocare dobbiamo andare aghi e rosy sono arrivati in biblioteca ahah stanno cercando il libro giusto è qui da qualche parte non sarà facile i ragazzi cercano ma non trovano nulla dove sarà oh aghi non ha fretta sei fuori di testa volta le pagine più velocemente shhh ok i cercatori staranno zitti beh forse è questo bingo hanno trovato la serratura codice ma è arrivata mammy è l'inseguimento del secolo silenzio smettetela finalmente ti ho trovato vieni dalla mamma bel servizio ora basta mi hai stufato fuori di qui gli amici hanno preso la serratura codice oh è un po' rotta oh no cosa facciamo è falsa cielo che fallimento wow ora è tutto a posto grande ci sono tutti gli elementi ottimo lavoro cosa stanno combinando rosy e aghi hanno preparato una trappola per mammy chissà se funzionerà ehi è qui è ora di andare strano perché i ragazzi hanno mostrato il loro nascondiglio presto tutto sarà chiaro wow cos'è quella barriera invisibile mammy è rimasta intrappolata e non può muoversi ancora un minuto e l'arrabbiata mammy tornerà nel gioco il piano è fallito oh no agghi è nei guai rosy è arrivata in tempo incredibile è tornata nel mondo di poppy playtime ma sembra che voglia uscire di nuovo wow aghi è diventato un vero ragazzo l'incantesimo del gioco è stato spezzato il pubblico è felice che la missione sia stata completata che film è? benvenuti nel nostro laboratorio di scienze ops il professore è impolverato che cosa sta combinando quel bidello scaltro? quel portatile non dovrebbe essere toccato il signor harm ha fatto qualcosa di brutto si trovato Ciao!